Io avevo il terrore dei cavalli, non riuscivo neanche ad avvicinarmi, li consideravo animali supremi, inavvicinabili, impossibili da toccare. Quello che mi hanno insegnato è la pace, la tranquillità, controllare i miei scatti nervosi, il mio stato d'animo che è sempre stato parecchio alto, con il loro respiro, ascolto, mi calmo, mi aiutano a stare tranquilla e serena, soprattutto mi svuotano la mente, Io consiglierei questo tipo di percorso a tutte quelle persone che la mattina si alzano e sono arrabbiati con il mondo, arrabbiati con i loro problemi, arrabbiati con le persone che sono continuamente sotto stress. Questo percorso ti aiuta a metterti in pace col mondo e con tutti gli esseri viventi, con tutte le creature e con tutte le persone soprattutto. Grazie. Grazie. Grazie.